Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi un video che era partito doveva partire come Get Ready e finisce con... cioè finisce... finisce che invece vi farò vedere anche gli ultimi acquisti che ho fatto su Look Fantastic e Pinalli perché ho trovato delle cose in sconto, quindi comunque il video è a tema beauty. Vi farò vedere, vi faccio subito vedere la palette oggetto del video, che è la nuovissima palette di Mulac. Quindi la proviamo insieme, vi faccio vedere, vi dico anche il colore che mi ha deluso tantissimo. Sono due colori che reputo... che altro ci sono rimasta male perché non sono come li avevo visti nel video di presentazione di Cindy oppure anche sulla pagina Instagram di stesso di Mulac. L'è arrivata venerdì mattina, oggi è domenica mattina e vi avevo promesso su Instagram che l'avremo provata insieme e così sarà. Questa l'ho presa su Pinalli, l'ho pagata col 30% di sconto. Anche adesso ci sono gli sconti Black Friday, quindi la potete trovare scontata. L'ho presa, l'unica palette in due anni che avevo preso era questa mini palettina di Natasha Denona, la Mini Love, questa qua. E poi non avevo più preso niente altro in due anni, sono due anni che non prendo nessuna palette. e quindi questa però veniva scontata a 27 euro e me la sono voluta regalare. Mi sono bruciata stamattina, ho messo il dito sulla piastra, mi sta facendo malissimo, ho messo il foil ma... la vedo messa male la situazione perché la GHD ha avuto la brillante idea di mettere il bottoncino che è vicino alla piastra, la piastra rovente e quindi niente, mi sta pulsando da morire. Allora, vi dico intanto che cosa ho messo sul viso già. Non ho messo primer, ho utilizzato l'HD Liquid Coverage Foundation di Catrice. Questi prodotti poi ve li lascio scritti giù in infobox. Nella colorazione 030 Saint Beige. Come correttore ho fatto il mio mix dei correttori ristretto di Neve Cosmetics. Metti a fuoco i correttori, grazie. Medium e Light. Una goccia e una goccia perché vi ripeto è coprentissimo. Trovate il codice sconto di Neve Cosmetics qua sotto e tutte le altre informazioni. E ne ho messo una goccia anche sulla palpebra perché ho corretto insomma le discromie e mi farà da primer. E questa è la base con veramente anche due gocce di fondotinta che ho applicato con il fondotinta con il pennello 303 di Real Technique. Questa era una limited edition, non so se ci sia ancora in presente, non so se sia un pennello che fanno anche in gamma permanente, ma questo pennello a me piace tantissimo sia per il fondotinta che per il correttore. Mi piace davvero tanto, è uno dei miei super preferiti. Le sopracciglia le ho fatte con il cabro di Benefit, nella colorazione 5. Beh, questo qua. E in realtà ora sono andata a risistemarle un attimino con uno dei miei acquisti. Allora, una l'ho presa su Pinalli e una l'ho presa su Look Fantastic per arrivare alle spese di spedizione gratuite, ma sono lo stesso identico prodotto perché era a corto di prodotti sopracciglia. E io con la Micro Brow Pencil di NYX mi trovo benissimo, se mi seguite da anni lo sapete perché ve l'ho mostrata in tantissimi video. Le ho prese entrambe nella colorazione Brunette, quindi una è chiusa, una è aperta, che l'ho già iniziata a utilizzare, Micromina, così inizio a farvi vedere anche gli acquisti e poi c'è il pettinino che tra l'altro è un pettinino molto 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 valido. E quindi una l'ho presa su Pinalli in un altro ordine e vi faccio vedere come che cosa altro ho preso su Pinalli. Ho ordinato fondamentalmente perché c'era disponibile e mi passava scontata col 33% la Tangle Teaser Wet, come quella rosa, che vi consiglio sempre. Vi lascio il link anche di quella rosa qua sotto perché secondo me quella rosa merita di più di questa. O meglio, sono contenta di averne due perché ora, perché comunque dopo un po' le spazzole, ecco qua c'è un capello incastrato, dopo un po' le spazzole comunque gli si piegano un po' i dentini eccetera eccetera. Questa differisce dalla rosa perché ha leggermente, io parlo sempre delle wet col manico, che sono le uniche, è l'unica Tangle Teaser che io sinceramente mi sento di consigliare proprio tanto. Io districo sotto la doccia con il balsamo o con la maschera applicata. Questa ha i denti leggermente più alti ma di pochissimo, sono un po' più duri, effettivamente è consigliata per un riccio dal 3C, 4A, 4B, quindi si va nell'afro, io non ci arrivo a quel riccio però le guru ricce del web dicevano che questa non aveva rivali eccetera eccetera. Secondo me io vado benissimo con quella rosa di cui vi lascio il link. Non mi sono pentita di averla presa perché la sto utilizzando, l'ho utilizzata anche l'altro ieri quando ho lavato i capelli tranquillamente, però vi devo io consigliare un acquisto, vi consiglio la rosa, a meno che proprio forse non avete un super nido, ma io con l'altra la trovo delicata, la trovo davvero perfetta. Questa è simile e c'è tutta questa differenza che, oh mio Dio, ok. E la matita e poi ho approfittato per prendere, per dare un'altra chance a Giada e ho preso il gel rinforzante con aloe e spirulina. Ve l'ho fatto vedere anche in un vlog. Questa è stata la quantità che ho utilizzato solo con un'applicazione. Sono 150 ml di prodotto, ha ispirato tanto perché era a base di aloe e scommetro molto bene con il gel di aloe ho detto, vabbè, penso che possa andar bene. Costa tantissimo perché costa 13 euro per 150 ml di prodotto, è davvero tanto, però si tratta di un brand comunque, bio made in Italy e quindi ci può stare. Lo indicano per tutti i tipi di capelli, sia lisci che ricci, per fissare e definire le acconciature. Contiene spirulina ricca in vitamine, aminoacidi e sali minerali, avena, echiseito e ginseng dalle proprietà ristrutturanti e gel di aloe dalle proprietà idratanti, adatto anche per acconciature uomo. Io l'ho applicato in combo con la schiuma Pantene. Vi avevo chiesto dei consigli su Instagram, non è andata bene in generale. Non è andata bene e lì per lì non erano male, ma il giorno dopo facevano veramente pina. Infatti in quel vlog, casomai vi lascio gli ultimi vlog linkati qua sotto, anzi aspettate che cambio sedia perché sono sul paghetto che è bellino quanto volete. per truccarmi, ma va bene, ma è troppo basso e io, cioè se uno fosse un pochino più basso forse mi avrebbe bene, aspettate. Ho acceso anche un'altra luce perché è buio, è mattina, è totalmente buio. Va bene, questi sono stati i miei acquisti, comunque poi lo proverò anche magari da solo, abbinato in un'altra maniera, non lo so. Per ora, pessima impressione ho avuto. Mettiamo le cose da una parte e prima di passare... Nello! Panico, perché è successo un macello, ma se vedete come io sono, nel frattempo scalcio con i piedi. Non sapete in che condizioni io sono circondata qua, praticamente voi siete nell'oasi felice e ordinata e questa è la stanza della P, come si suol dire. Ok, ok, vediamo questa palette. Allora, la palette è grande, così. Io ho di mula qua solo la prima uscita, che tengo solo per ricordo perché non la uso più da una vita. E poi ho buttato i quad, no i quad erano quelle palettine a nove colori, che su di me facevano pena. Il colore spariva, sbiadiva, era come non mettere niente. È veramente una resa bruttissima, infatti non avevo avuto più coraggio di prendere niente di Mulac perché sono state veramente un acquisto e sono state anche abbastanza e tremende, terribili. Sia quella sui colori della terra che quella sui colori più sul rosa, borgogna, viola. E quindi non ho più preso niente perché ero rimasta sinceramente delusa dalla performance di quegli ombretti. Sia i matti che gli shimmer, proprio, cioè già dopo due ore non c'avevo più niente sulla palpebra. Pazzesco. E vabbè, c'è lo specchio e questa è la palette. Sinceramente dalla mia fotocamera vedo molta più realtà rispetto ai video. Ora, senza nulla togliere Porella alla Cindy, che tra l'altro sta a momenti anche per partorire, ma vi dico subito. Allora, come ha spiegato lei, qua ci sono i matt freddi, matt caldi, luminosi freddi, luminosi caldi e diciamo qua una cosa intermedia, così più o meno l'aveva spiegata lei. Cosa mi ha deluso questi due marroni mattoni, specie questo. Terribile e bruttissimo, almeno a vederlo dalla cialda. Spero di sbagliarmi e che abbia una resa buona sull'occhio. Per dire, già sfumato così è meglio. Ora, non ve la sto a swatchare tutta perché l'ha già swatchata lei. Questi sono i freddi. Allora, sfumati già va meglio. I passaggiettini è meglio. Ve lo dico già da adesso, io non farò un trucco particolare perché voglio fare una cosa molto neutra. Prendo So What, che è questo. Sono felicissima che ce l'abbia messo, questo colore, perché per me è indispensabile in una palette. Infatti, la mia idea è che questa palette deve stare qua sulla scrivania e la devo utilizzare proprio a base quotidiana. Ultimamente stavo utilizzando la Lolita Porvida, che ce l'avevo praticamente nuova. Invece l'ho sfruttata tanto e mi è piaciuta davvero, mi sta piacendo davvero tanto. Dei colori non li ho proprio toccati, ma comunque bella, 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 bella. Solo che in questa palette mancava un colore sotto la tirata da mettere. E quindi avevo ritirato fuori la Jazz Pissimatte, che è meravigliosa, è un incanto. E usavo sempre appunto questo colore qua che ho bucato. Questo anche scavato, questo insomma, a volte sfumavo anche con questi tre qua. E un po' troppo calda per i miei gusti, per utilizzarla sempre, perché mi piacciono anche i marroni medi e qualcosa di freddo. Continuiamo. Magari se mi fossi spinzettata un po' meglio anche le sopracciglia, non sarebbe stato male. Ok. Ora, prendiamo dei pennelli totalmente puliti. Sulla base io non ho messo cipria. Vado a fissare dopo, perché se il caso mai spolvera qualcosa, faccio una ripassatina con un correttore superleggero. Con il mio classico pennello di sfumatura, ne ho due. Uno è zozzo e l'altro è pulito. E il Teal Blending, che vi straconsiglio da sempre di prendere di Neve Cosmetics. Mi faccio coraggio e prendo appunto Blend, il colore incriminato. E allora, mettendo il pennello fa abbastanza, spolvera abbastanza, però quello per me non è un problema. Però lo dico. E vediamo come risulta poi applicato. E io spero di sbagliarmi tantissimo. Perché appunto questa palette la voglio sfruttare a 360 gradi. Sia per look più intensi o comunque più scintillanti. Spolvera assai. Ma ripeto, l'importante è che poi l'ombretto si sfumi bene. È molto più bello applicato che non visto dalla salda. Io però lo vado a scaldare notifiche che non ci riguardano in questo momento. Prendo il pennello di Wai con le 11. Favoloso questo pennello. E lo vado a scaldare con questo marrone qui. Perché questo ha troppo pesca. Questo è un po' più di arancione. Vediamo. Ecco, questo già spolvera di meno. Vado sia sopra che un po' anche sotto. In collezione c'erano sia le matite sia nera. Cioè, in collezione c'erano anche le matite sia nera che marrone. Mi ispiravano tantissimo ma non le ho prese perché ne ho tante altre. Non... Insomma, volevo sentire anche prima qualche recensione. Poi, 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 poi. Sbocciamo qualche shimmer. Ora sto sbocciando questi due qua. E ci decidiamo. Mh, bello questo. Ah, questo è un champagne. Ma questo è bello. Ha delle riflessi anche sul rosa. Bellissimo. Belli. Non mi so decidere. Sì, mi so decidere. Classy Cheds. Non mi ricordo qual è il finish di questo. Sembra quasi un wet. Volendo potrei mettere sotto Rebel. Allora, metto sotto un po' di Rebel. Questo. No, volevo qualcosa di più delicato. E sopra metto Classy Cheds. Lo metto col dito perché secondo me questo Classy Cheds è da applicare col dito. E infatti ha una texture un po' più secca. Ma penso che sia proprio per l'ombretto in sé. Che è così. Con siccome sa. concludo il make-up e torno da voi. Metto la matita sicuramente Long Lasting di Essence. E gli altri prodotti con cui concludo ve li dico dopo. Rieccomi. Allora, questo è il look terminato. Mentre mi mentre applicavo il mascara e altri prodotti riguardandomi sono soddisfattissima del make-up. Ovviamente ci sono ora vi parlo anche di queste cose qua perché ho avuto delle idee nel frattempo. Allora, sulle ciglia Lush Desastro Lush Princess Verde di Essence poi Cipria Cut Fondi in polvere libera la terra di Charlotte Tilbury il blush di Gigo questo nella linea permanente lo 05 e lo Skin Glazing di Nabla Ozone sia nell'angolo interno dell'occhio che come illuminante. Sulle nabre invece ho messo un Volumizing Lip Booster Full Color di Catrice nella colorazione 140 Rosewood Hills che sarebbe questo qua l'ho visto anche ieri da Balea e ha un effetto rimpolpante però è anche coprente risulta così sulle labbra ho sbagliato tra virgolette perché volevo andare a contornare a fare la base con la matita ieri l'ho cercata c'era lo stand Catrice ma non c'erano queste matite l'altra questo c'era a DM che ho detto Balea che ho detto prima vabbè insomma a DM e invece questa matita che è fenomenale se le trovate anche online prendetele dovrebbero costare poco di solito Catrice costa poco almeno questo colore il Water Doll 020 perfetto solo che mi sono scordata questi due colori sono gli swatch allora il colore marrone scuro scuro che poi non è scuro il re jelly sembra scuro ma non lo è è molto più caldo su ociato perché è questo tanto 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 caldo e ha la stessa è un satin matte la stessa identica consistenza del No Darts che io ho amato alla follia di Nabla vedete questa palette io non la uso più ma c'è stata l'estate in cui hanno fatto il lancio dove io ho bucato appunto queste due cialde mi facevo degli smokey fenomenali queste due cialde se le avessero fatte tipo singolarmente cioè le avrei proprio finite quindi niente volevo fare questo paragone praticamente l'assistenza almeno col dito è la stessa la sento la sento molto simile e poi che ho messo non ho messo ah sì la long lasting marrone e nella rima ciliare inferiore invece ho messo una delle mie pastello occhi preferite che è la acero acero vabbè andate sulla fiducia è questa qua è meravigliosa se fate un ordine inseritela io l'amo sia nella rima ciliare inferiore che superiore è meravigliosa è proprio un bel colore è una bellissima tenuta è fantastica è una delle mie pastello occhi preferite se non la preferita in assoluto si può ben vedere le pastello costano sempre poco poi potete anche aggiungere sempre il mio codice sconto i colori che ho provato mi piacciono spero di poterla sfruttare tanto ve ne continuerò a parlare fatemi sapere se voi l'avete provata che cosa ne pensate e ora vi finisco di far vedere gli acquisti che ho fatto su Look Fantastic oltre alla matita ho preso erano scontati a 5 euro alla fine ho ripreso il Carl Gelli di Umberto Giannini per fare appunto lo styling ricci se c'è qualche nuovo iscritto non lo so però in ogni caso se c'è qualche nuovo iscritto io sono riccia e non mi lisciavo da 5 mesi una cosa simile avevo anche 6 e questo è un gel che non l'avevo molto capito poi l'ho terminato ho detto ma chissà insomma alla fine era scontato su Look Fantastic era 5 euro invece di 8 è un ottimo prezzo sono 200 ml di prodotto 24 mesi di scadenza dall'apertura adatto al metodo e anche adatto al metodo è la mousse della mousse io non ne avevo sentito parlare da nessuno mentre del gel si quindi ho voluto prendere anche la mousse bellissi pack sono proprio fashion c'è da dire 200 ml di prodotto della mousse non so niente il mousse si mousse vedremo se come sarà il bocchettone è tipo quello della panna montata a spray vabbè e vi farò sapere anche la schiuma era scontata sui 5 euro ho ripreso il carlin jelly anche di S&M avevo detto no non lo riprendo non lo riprendo infatti penso che ve lo dirò poi nel video dei finiti vabbè ve ne riparlerò avevo terminato la mia seconda confezione ho voluto prendere la mia terza perché alla fine a me questo gel ha una tenuta media a me piace sempre tanto e e quindi mi piace provare cose nuove però mi piace avere anche i capelli belli e questo è un gel con aloe vera vitamina E pectina e niente sui mie ricci va proprio alla grande il barattolo è da 227 grandi molto famoso anche il co-wash io non ho mai fatto co-wash chissà ah e poi ho preso della Barts Bees per arrivare alle spese di spedizione il vanilla bean boh vabbè insomma questo nella fragranza la vaniglia per arrivare alle spese di spedizione gratuite e niente questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia scusate mi tomba un po' il caos generale e mi sono resa conto che ho trovato adesso l'inquadratura che qual è che ho cesso ah no un uscerino ho trovato adesso l'inquadratura che mi piace cerco di lasciarvi tutte le informazioni sotto nell'info box allora e e basta mi raccomando lasciate sempre un like di supporto al canale iscrivetevi e attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati se vi piacciono questo genere di video mi raccomando supportatemi perché è tanto importante per me e per il mio canale è gratuito lasciare un commento lo so che magari li vedete dalla televisione e torna scomodo però se potete ecco sappiate che lasciare un commento lasciare il like condividerlo se vi va con i vostri amici sia su facebook su instagram eccetera eccetera questo come tutti i miei video mi aiutate davvero tanto è tutto gratuito e mi fa tanto piacere insomma se fate queste cose basta vi mando un bacio ciao